La timbratura per le presenze al lavoro diventa i-tech, utilizzando la tecnologia più avanzata attraverso una app. La sta sperimentando, prima, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale Toscano, l'azienda sanitaria Asla Toscana Sud-Est, con un numero ristretto di dipendenti, mediante un'app denominata iBadge, della società che gestisce l'applicativo delle presenze. L'app, scaricabile su smartphone, mappa gli spostamenti dei dipendenti su tutto il territorio dell'azienda, consentendone la tracciabilità ancoraria sui poli provinciali di Grosseto, Arezza e Siena. Oltre ad offrire una modalità innovativa nell'ambito di una delle tante attività di amministrazione personale, consenti di registrare le presenze del personale dipendente in tempo reale, eliminando il ricorso al cartaceo anche nel caso di spostamenti. I risultati della sperimentazione saranno esaminati nel primo semestre del 2017 dal gruppo risorse umane dell'azienda per decidere se utilizzarla quale modalità di rilevazione alternativa al più tradizionale badge.